Un interessante convegno, avente come tema workshop teorico-pratico, il punto sulla risonanza magnetica, aspetti clinici, tecnici e di sicurezza, si è svolto presso la sala montatori la gru di Siderno per proporre agli specialisti del settore una realtà nuova. Nel momento in cui si parla spesso di malasanità vi è invece una nuova interpretazione della stessa in chiave moderna con realtà e con attrezzature di grande avanguardia. Lo scopo di questo workshop aveva come punto di riferimento un maggiore approccio con queste nuove tecnologie che la medicina mette in moto ed era anche indirizzato ai medici di tutte le specializzazioni, ai specialisti del TSRM, ai biologi, ai fisici, ai fisioterapisti, agli infermieri, ai tecnici della prevenzione. La possibilità di svolgere questo workshop è stata data dalla presenza della grossa struttura radiologica dello studio radiologico Fisher a Siderno in cui sono presenti delle risonanze di ultima generazione e che consentono appunto diagnosi di alto livello. Il workshop ha la particolarità di essere sia teorico che pratico, ovvero delle lezioni frontali che si stanno svolgendo in questa sala e che sono state svolte e una parte successiva pratica con la visita insieme agli ispettori centrali del servizio ispettivo dell'INAIL di Roma presso lo studio radiologico Fisher facendo vedere effettivamente come si svolge l'esame, quali sono i criteri di sicurezza da attuare per la salvaguardia dei lavoratori e dei pazienti in quanto l'esame di risonanza magnetica, anche se non produce la radiazione che viene applicata sul corpo umano, non produce effetti nocivi sulla salute ma ci sono una serie di procedure di sicurezza proprio per la tecnologia con cui funziona la risonanza stessa. Allora in questo workshop oggi abbiamo trattato l'utilizzo della risonanza in campo clinico per identificare e sottolineare quello che è il ruolo della risonanza oggigiorno, fondamentalmente in campo oncologico con tutte queste nuove metodiche e tutti questi nuovi parametri che fanno parte della risonanza magnetica dal punto di vista dell'utilizzo della spettroscopia, della diffusione, della perfusione, dell'utilizzo di mezzi di contrasti che ci permettono meglio di identificare quelle che sono le lesioni neoplastiche e quindi anche per aggiornare i medici che lavorano ai confini dell'impero che possono essere nelle province stesse, anche avvicinarsi a questo tipo di metodica e a sottolineare il ruolo che ha questa nuova metodica con quello che è la diagnosi, la classificazione, la stadiazione, la valutazione post-terapia della neoplasia stessa. Ora andremo anche a visualizzare sul posto quelle che sono le metodiche della risonanza magnetica, anche gli apparecchi stessi, lo studio radiologico che è qui vicino, in modo da visualizzare insieme ai dirigenti e linee quelli che sono anche i sistemi di sicurezza e delle precauzioni che ogni medico e ogni tecnico che lavora in questo ambito deve assolutamente seguire e tenere in considerazione. Come Presidente del Collegio dei Tecnici Sanitari di Radiologia della provincia di Reggio Calabria siamo soddisfatti, molto soddisfatti, della riuscita di questo corso visto la partecipazione non solo della provincia di Reggio ma anche della provincia di Cosenza e di Catanzaro. La particolarità di questo evento formativo è che si è svolto in due fasi, la fase teorica all'interno della libreria Mondatori al centro commerciale Lagru e la parte pratica allo studio radiologico Fisher. Quindi ringraziamo entrambi per la loro collaborazione. C'è una forte rappresentanza di colleghi dell'INEL tra infermieri, tecniche di radiologia e anche medici perché l'INEL come ben sapete in questo corso ha dato il proprio patrocinio. Siamo interessati all'argomento anche perché a breve sicuramente sarà attivata la risonanza presso il nostro istituto precisamente presso l'INEL di Reggio Calabria. In qualità di partecipante al corso ritengo che questo workshop abbia veramente una rilevanza fondamentale importante sia dal punto di vista delle nuove acquisizioni in campo di diagnostica per immagini attraverso la risonanza magnetica sia per quanto riguarda la diagnostica che sicuramente trarrà grandi giovamenti dalla introduzione anche nelle strutture private e quindi anche come si sente parlare nella nostra zona di apparecchiature di ultima generazione con un campo decisamente molto più alto e quindi con possibilità di permettere diagnosi anche più precise e anche in vari casi clinici che al momento possono non essere studiati in maniera perfetta.